La Alan Kurdi arrivano dalla Libia e proprio in questi giorni il mondo accademico in un appello chiede l'evacuazione dei campi libici. Primo firmatario il presidente merito della Corte Costituzionale, Valerio Onida. Lo ha incontrato Paolo Pasi. Civili in fuga dalla guerra. L'altra faccia della Libia sono invece i campi di detenzione, dove migranti e rifugiati vengono sottoposti a condizioni disumane, a violenze e torture, a estorsioni comprovate da sentenze giudiziarie e da denunce delle organizzazioni internazionali. L'Agenzia dell'ONU per i rifugiati ne sollecita il rilascio in un contesto di silenzio imbarazzante dell'Europa. Dall'Italia sette giuriste si sono mosse con una petizione al Parlamento per chiedere che l'inerzia cessi. Tra i firmatari il presidente merito della Corte Costituzionale, Valerio Onida. La colpa degli stati, l'Italia prima di tutto, ma non solo, evidentemente, gli stati europei e gli altri stati, è quella di non dare all'ONU le risorse e gli strumenti necessari per andare in conto a questa situazione, che ormai nota, fin troppo nota. L'ONU oggi può parlare, può dire, c'è in Libia, dicono quello che accade, ma non c'è nessuno che ha la forza di intervenire per far cessare questa situazione. Tra le richieste è anche quella di rivedere il memorandum Italia-Libia, siglato nel 2017. L'Italia ha fornito strumenti, per esempio motovedette, istruzioni per la Guardia Costiera Libica, la quale Guardia Costiera Libica di fatto, lo sappiamo, quello che fa è quando ripesca o salva della gente in mare, li riporta in Libia, nei campi di detenzione. Se l'Italia ha fatto questo, aiuta la Libia a fare questo, l'Italia è complice. Grazie. Grazie.